Conti Rosso di sinistro, lancia verso Stagliano, Marco Voci e il gol! Marco Voci con un tocco di furbizia, anticipa la buona uscita di Panucci. Tutti all'altezza dell'area piccola del portiere, quindi situazione molto pericolosa. Sta per partire Pantano, siamo al 35esimo del primo tempo, fischia Petrosino, parte di destra Pantano, cerca direttamente la segnatura e la mette nel 7. Riparte ancora il Montepone, Condoria che si accentra, arriva Velletri, ha di fronte a sé anche Mazzotta, tocca molto bene per Procopio, numero Salvatore Procopio! Il Mazzucchic del Montepone al quarantesimo ha guardato la porta e l'ha messa dove Panuccio non poteva far nulla. E blocca con sicurezza cercando di ranciare verso Carbone, con Monti Rosso che fa buona guardia, però recupera Pantano, se ne va, anzi Velletri, tocca per Carbone, ancora per Velletri, che entra in aria Velletri! E mette dentro il pallone al tredicesimo minuto Pasquale Velletri sul suggerimento di Carbone. E ancora il Montepone che con Platì cerca di ripartire, Carbone non riesce a raggiungere la velocità di Platì che parte in velocità, supera anche Figliucci, è velocissimo ed è anche più fresco perché è entrato da poco. Ancora un'accelerazione di Platì che si ferma, evita Figliucci, mette in mezzo il pallone, Marco Voci! Marco Voci mette la palla lì dove non poteva arrivare Panuccio e Marco Voci al quarantacinquesimo minuto segna un gol di destro su una grande azione di Platì. Il Montepone batte per 3 a 2 il città di Rosarno, una partita intensa, una partita dove il Montepone ha vinto soffrendo, però poi alla fine ha vinto. Sì, sarebbe stato impensabile pensare di poter vincere una partita contro una squadra forte come il Rosarno senza soffrire, però considerato che siamo stati sempre in vantaggio direi che la partita per me è meritata, anche se sinceramente abbiamo incontrato una squadra forte che ci ha messo in difficoltà come era giusto che fosse. Mi è piaciuta molto però l'applicazione che ci ha messo la squadra nel voler superare sempre gli ostacoli che si presentavano davanti perché non è semplice passare in vantaggio, vedersi raggiunti, poi ripassare nuovamente in vantaggio e con qualche errorino di troppo farci pareggiare di nuovo la partita, poi siamo andati addirittura a vincerla e mi è sembrata una grande prova di maturità. Mister, i cronisti direbbero Pisano mette dentro Platì e Platì si inventa l'azione che ha permesso poi a Marco Voci di fare doppietta, quindi tutto merito di Pisano? No, no, tutto merito di Platì che è stato così bravo entrando in un momento fondamentale della gara, lo stavo già mettendo prima, poi alcune situazioni di gara non me l'hanno permesso, ho dovuto temporeggiare un altro po' ma tenerlo fuori per me è sempre un problema perché comunque vorrei vederlo sempre in campo come tanti dei ragazzi che stanno fuori, meriterebbero sicuramente di giocare sempre al primo minuto, però si va in campo in 11, noi abbiamo un'altra partita importante mercoledì da recuperare, quindi è normale che bisogna cercare di trovare il momento giusto per inserire i ragazzi. Lui è stato fantastico, è entrato e credo che abbia dato una marcia in più sulla zona sinistra insieme a Davide Doria ed era così che immaginavo il finale fortunatamente è andata bene. Mister Giuseppe Perna della città di Rosarno, innanzitutto complimenti per una squadra che ha dimostrato di meritare di essere intorno alla zona playoff, però forse il Montepone ci ha messo un pizzico di cuore in più alla fine. Sì, diciamo che forse ci hanno creduto di più, però siamo stati pure un pochettino sfortunati perché sia nel primo tempo che nel secondo, nelle uniche azioni che abbiamo sofferto abbiamo preso gol, quindi su tre tiri in porta abbiamo preso tre gol. Noi sul 2-2, quella traversa linea, siamo stati sfortunati, magari là cambiamo un po' la partita. Dalla tribuna lei sa che è molto più facile parlare che dal campo, però ci è sembrato che l'uscita di Velletri, il numero 3, uno di voi fratelli Velletri, abbia poi indebolito nel finale la sua squadra. Lì cerco di vincere la partita, metto un attaccante per cercare di vincere la partita perché anche se avessimo pareggiato per cercare di arrivare nei playoff, qui era un risultato quello che dovevamo prendere, la vittoria. Io volevo vincere per questo, ma poi non è stato un problema di Velletri perché poi l'errore è stato dietro, non è stato sul lato di Velletri, è stato sul lato del difensore. Quindi l'abbiamo sbagliato a non chiudere bene sul difensore, sull'attaccante che ha crossato, non è un problema di Velletri o meno.